La differenza è che dove ero io e venivano a tutte le parti e io quando vengono a tutte le parti non le sento e li tiro a tutti quando sono belle e passate davanti dove dovevano venire non ce n'è venuti uno e poi venivano tutti gli altri e andavamo su, raccattavo un tordo e mi ha detto venivano su, venivano su. Gerardo ci sta cadendo dalla bassa Italia, ora è massimo di dire che ne ha fatto 500. Quanto ne ha fatto? 40.